Scusami. L'Evorossi, Padova non è una città di montagna, però insomma anche Bolzano riconosce che sono stati fatti dei passi in avanti sulle energie sostenibili. Non c'è un dubbio, ci fa anche piacere questa partnership con Bolzano e con Friburgo in particolare perché ci dice come la nostra città che ha investito molto sulle energie rinnovabili, che ha investito molto sull'abbattimento della CO2 e quindi sul non ricorso a combustibili fossili. Due esempi, il tram 11 km che oggi sono perfettamente funzionanti e un mezzo ecologicamente assolutamente all'avanguardia. L'altro versante, solo per citarne due, è quello del solare fotovoltaico dove abbiamo una produzione elettrica ormai considerevole che oltre a non usare combustibili fossili per generare energia, contemporaneamente porta nelle casse comunali un introito importante dal punto di vista degli incentivi e quindi va in parte piccolissima purtroppo a ripagarci dei bancati trasferimenti, dei tagli da parte dello Stato. Basti pensare che tra il Comune e la Cegasa PS stiamo parlando di 50 MW installati, a cui dobbiamo aggiungere l'impianto del MAP, l'impianto sull'interporto di cui siamo soci e sull'interporto fa altri 12 MW. Cioè, se una centrale elettrica, quando dice un gigabatt, è una centrale di una certa importanza e quando diciamo che abbiamo una produzione solo pubblica di circa 70 MW, diciamo che la nostra è una città che ha fatto passi in avanti straordinari. È importante che ce lo riconoscono gli altri perché talvolta in città queste cose passano sotto silenzio. È bene che ce lo ricordino loro perché diventa anche un'occasione anche per noi per i flat.